Ambrogio, forse sarà l'aria aperta, ma mi è venuto un leggero lamborino. Nelle vicinanze potrà certamente gustare qualcosa di genuino. Ma se la mia più che fame fosse voglia di qualcosa di buono? In questo caso nulla sarebbe più indicato di un Ferrero Rocher. Ambrogio, il tuo stile è sempre inconfondibile. Ferrero Rocher soddisfa la voglia di buono. Ecco fatto. Eh sì. Adesso puliamo bene e prepariamo la pappa a Nicola. Non fidarti, pulire non basta. Passa anche ACE dove l'igiene è importante. Con il detergente normale non rimuovi tutti i germi. Se passi anche ACE le rimuovi tutti. Adesso l'igiene è sicura. Usa anche ACE e avrai dappertutto l'igiene di cui hai bisogno. ACE, igiene è sicura, casa protetta. E quando scegli, guarda la differenza. ACE contiene di più. Chili che vanno, chili che tornano. Dacci un taglio. Con Krusken BioSystem. Il nuovo sistema multiativo. Le fibre di Krusken per regolare l'intestino. E in più, BioSystem riattiva la flora intestinale. Ti aiuta a mangiar meno per conquistare la forma. E non lasciarla più. Krusken BioSystem. Fermati al peso forma. Le gemelle rossi fra poche ore spegneranno 30 candeline. Vediamo come festeggia Laura. Lei usa il solito deodorante spray che in pochi minuti svanisce. Invece Luisa usa GLED tocco di freschezza micro spray concentrato ricaricabile. Un solo tocco. Profuma ore e ore prima di attenuarsi. Che buon profumo. E quando l'ho spruzzato? Avevamo un anno di meno. GLED tocco di freschezza. Un solo tocco profuma per ore. Il latte, il pane. Vabbè poi naturalmente il magnum. Mi mangio un magnum e la pioggia se ne va e tutto è molto più bello. Adesso potete telefonarmi, suonarmi, citofonarmi, faxarmi, fare quello che voglio. Se volete mi sto mangiando un magnum. Il mio magnum. L'altra volta ho avuto un incubo, era... Era finito, il magnum era finito. Meno male che ci sono le confezioni da tre. Scopri una nuova dimensione della bellezza. Finora tutte le creme erano a due fasi. Da oggi c'è una crema con una terza fase. La fase ad effetto prolungato. Optimal di Nivea Visage. La prima crema a tre fasi. Idrata più a lungo. Nutre più a lungo. Protegge più a lungo. Nuova Optimal. Tre fasi. Per essere bella più a lungo. Solo da Nivea Visage. Cartodora Algida. Un mondo di magia e meraviglia. Cartodora. Un gelato ricco di pezzetti golosi. Cartodora. La vera semplicità. Dei sapori autentici. L'intensità di mille e un gusto. Cartodora. Un mondo unico di magia e meraviglia. Cartodora Algida. Il gusto così intenso che fa la differenza. Oggi c'è un nuovo amico da incontrare. Nuovo Ringo Chaldi. Il nuovo snack leggero e generoso. L'unico che si divide per unire. Nuovo Ringo Chaldi. Da Pavesi. Ringo Chaldi. Sapete perché copro la carne alla standa? Ma per questo. Con Natura Più sono sicura che l'animale è giovane. E arriva ad allevamenti selezionati e controllati. Guardate che resa. E che tenerezza. Per me Natura Più è la migliore. E poi alla standa ci sono più di 3.500 prodotti di marca. Ogni giorno è un'offerta speciale. Conviene andare alla standa? Fidatevi di me. Ogni giorno di più. Se dico Nutella, lei cosa dice? Ah, Nutella. Era il complesso di Giorgio. E io ho avuto un'idea fantastica. Un Nutella Party. Nutella è così. Sempre un po' speciale. Che mondo sarebbe senza Nutella? L'occasione è sempre buona Quando è buono quel che mangio Il mio mondo è spensierato Quando il gusto è delicato Io sono un po' calve Sono qui che sto a cantare Non dovrei ho la bocca piena Ma oggi sono un po' calve Maionese calve, gusto a volontà Oggi sono un po' calve Ci sono ancora due posti a tavola Se ci hai aiutato a preparare Scegli il sapore e la leggerezza Dei cracker del mulino bianco Sfoglia dopo sfoglia Nascono dal buon grano dorato Mangia San Torna la natura Con mulino bianco barilla A chi può venire in mente Che a una ragazza così Sanguinino le gengive E infatti non le sanguinano più Da quando usa Neo-Amoform Neo-Amoform previene la formazione Della placca E con i suoi sali Favorisce la rapida decongestione Delle gengive E tonifica le mucose Ora come possono sanguinare le gengive Se usiamo Neo-Amoform Sorridete C'è Neo-Amoform Signora Perché non si fa un bel regalo? Con che cosa dice lei? Con i punti dico io Di che cosa dice lei? Di Gran Premio Grandi Marche Dico io È scritto sui prodotti Agnesi Saiva Danone Galvani Ferrarelle Ferroni Io scelgo queste sei grandi marche E il regalo? Incredibile I regali del Corredo Cacceret Gran Premio Grandi Marche Scegli il meglio Ti regali il massimo Come l'ha detto bene Mio marito ha un tremendo raffreddore Sì Gli serve qualcosa per il nodo chiuso E anche per la tosse E qualcos'altro per il mal di testa E anche per i dolori alle ossa Cosa? Un solo prodotto Vicks Midnight Sedativo della tosse analgesico decongestionante Proprio quello che ci serve Vicks Midnight Allevi i principali sintomi del raffreddore e dell'influenza Per darvi una tranquilla notte di riposo Vicks Midnight Buonanotte raffreddore È un medicinale che può indurre sonnolenza Leggere attentamente il foglio illustrativo Per affrontare ogni situazione con un sorriso Per un po' di aborto Che c'è? C'è che c'ho mia suocera a casa Da una settimana È chi la madre di Eva? Il commissario Gicco in trent'anni non ne ha trovato uno di rifugio Quella li conosce tutti Esogere Ciao Nerone Un altro tango e poi basta Ti prego Findus ha creato tango Il primo croissant caldo con irresistibile ripieno e gelato Solo un morso Ma non ti snega Tango per gli amati del croissant E i maniaci del gelato Mela cambia? E questa volta come la vorrebbe? Molto succosa Agro dolce e croccantissima 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 Cambiamela Dal Sud Tirol Marlene Il gusto di cambiarmela Il mio lavoro è una passione Mi piace la precisione Un cronografo È un orologio speciale Mi dà grinta Un felino È una macchina in tale Deve essere precisa Ormai le cose fatte bene Io le sento a orecchio Un motore fatto bene È un rombo più che un suono Ha uno scatto bruciante Ha una punto GT È una macchina che mi dà sicurezza ABS Airbag Affrontare i tornanti È un piacere La fia al punto alla mia macchina È come un meccanismo perfetto È in più e punto Cos'è? Bagno schiuma Errore Candeggina Candeggina La nuova candeggina delicata di omino bianco Freschezza alpina Delicata sui delicati Sicura sui colorati Cos'è? Un'altra Sì Freschezza primavera Omino bianco Candeggina delicata L'unica con due profumazioni Cos'è? Luca Dai Luca Sempre atletico Sì mi tengo in forma E in più mangio bene Come voi Olio cuore Lo portiamo sempre con noi Bene bra Guardate Che bel fatto Anche lui usa olio cuore Come me Olio cuore Saporito Dietetico Ricco di vitamina E E nasce solo dal cuore del mais Olio cuore Mangiar bene Per sentirsi in forma L'espresso presenta I classici proibiti I grandi maestri del cinema Nei loro film più discussi Lunedì con l'espresso Diavolo in corpo Di Marco Bellocchio Il settimanale Più la videocassetta A sole 8.900 lire L'espresso Proibito lasciarselo scappare Spizzero No Vuoi? Questa è spizzero No Novi Chi ha detto che il buon cioccolato È solo svizzero? Novi Cioccolato per passione Dal 1903 Tronchi Sgranocchiare la cialda croccante Gustare il ripieno al latte magro E cacao Scoprire la granella di nocciole Avvertenza Consumare in luoghi non troppo silenziosi Tronchi Fuori croccantissimo Dentro morbidissimo Pulito e igiene Senza fatica Ajax Si è già finita Ajax Pulito e igiene Senza risciacquo Igiene Si Faticano E per l'igiene del bagno Oggi c'è Ajax Expert Il detergente anticalcare E perché non le chiami? I love Pino Silvestre Hello Honeychop It's me Green Generation My Parfum Chevo Chiamami Questo sarà io Momo Fine Green Generation Il profumo della nuova generazione By Pino Silvestre Se ci sei Mangia i Fonzis Ma il tuo stavo così lamenta Beh, mi è venuta fame Ah, così invece di me preferiresti una banale cosa da mangiare Beh, no, non proprio banale Una cosa dolce, irresistibile, con il cuore tenero Un desiderio sano, no? Certo, un sano desiderio Kinder Bueno al primo morso è il massimo del goloso Ma al secondo senti che il baffre croccante è pieno di latte e di nocciole Allo stomaco non si comanda, eh? Kinder Bueno calma la fame, cocco nel gusto Anche su Kinder Bueno trovi i punti dei legalissimi firmati e sicuri Spesso inizi di gusto Ma poi Nella Simental Tu lo sai C'è tanto gusto Ma anche tanta leggerezza Oh baby Così inizi di gusto E finisci in leggerezza Simental Inizi di gusto E finisci in leggerezza E con la nuova confezione famiglia da sei Ce n'è di più per tutti Passa avanti Passa diet Una sola caloria Vai Passa al gusto Non fermarti mai Linea snella E un sorriso Ok Go 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 Diet Go 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 Diet Go 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 Gusto diet Passa il gusto E vai Passa avanti Passa a Golia Day Ci va qualcosa di speciale Per alzarsi e lavorare No, a quest'ora non parlatevi di mangiare Per loro è nata Yogo Brios Ferrero Lo yogurt nell'impasto Il gusto di marmellata e yogurt nella farcitura Se il risveglio è duro E' nata la colazione morbida e semplice Yogo Brios Ferrero La colazione di quelli che non facevano colazione L'hai comprata? Eccola Noi ci facciamo una musti va Ma sei fuori? Mi hai mai visto con un dolce? Te ne pentirai A lavoro ragazza Verrina Frullino Secondo gruppo in scena E yogurt Yogurt Me ne avete lasciato un po' Ma sei fuori? Nuova mousse yogurt cameo La bontà è più leggere Da ViciNet un'altra eccezionale novità ViciNet Candeggina Gel La prima candeggina speciale per il WC Mentre la vostra candeggina scivola via ViciNet Candeggina Gel Arriva sotto i bordi Aderisce alle pareti Rimuove i germi E sbianca fino in fondo ViciNet Candeggina Gel Speciale per il WC Ma i saponi? No è Topexan Contro la tendenza ai brufoli Ma tu non ne hai? Certo uso Topexan tutti i giorni Guarda I brufoli sono causati da impurità ai batteri Topexan pulisce più a fondo del sapone E test clinici dimostrano che è due volte più efficace sui batteri Niente male eh? Toh fatti bello Topexan batte il sapone Le combattere la tendenza ai brufoli Le mazzuolo tutti E per mezzo? Eccola qua Ce l'hanno rubata sta macchina eh? Nein I ladri andranno in mia villa Ah E lì l'allarme non ce l'avevano Nein Allarme per casa troppo costoso Ma no Oggi c'è GT Casa Alarm Il nuovo allarme studiato apposta per la casa A un prezzo incredibile Tecnologia italiana? Ja GT Casa Alarm La sicurezza che cercate Io ho scelto la mia acqua Rocchetta Perché è leggera Naturale Ideale per una sana alimentazione Rocchetta è la mia amica L'amica del viver bene Acqua oligominerale Rocchetta Acqua oligominerale rocchetta Prendi la morbida Anche senza zucca Morosità Stasera voglio strafare Orecchiette con broccoli Oddio no Io li odio i broccoli È un inchiatto Difficile la signora Non perdondire Lo chef Buitoni Ti cambia la ricetta Ci mette la pasta Ci mette gli ingredienti Ci mette il fatto che è Buitoni Che non è da tutti Grande la tua pasta ai funghi E non c'è da fare niente Come niente Aggiungere prezzemolo tritato Buitoni Star bene a tavola Bevi chi no Aranciata 101 E i tanti altri gusti San Pellegrino E gioca con Super Mario Guarda sull'etichetta Puoi vincere uno dei 5.000 fantastici Game Boy Nintendo Chi beve San Pellegrino Vince Game Boy C'è una patina sul tuo sorriso? Torna a sorridere con Twingo Sì anche tu oggi puoi avere un sorriso smagliante con Twingo Così allegra Così bella da guidare Che ogni viaggio si trasforma in un sorriso Usata regolarmente Regalerà anche a te Un sorriso da primo piano Twingo Mono volume Multi sorriso E oggi Twingo è tua da 13.365.000 lire Meno di 200.000 lire al mese Mica male eh? Oggi c'è Blanco Roll Il sistema rivoluzionario per correggere in modo preciso, pulito e velocissimo Sempre pronto in ogni situazione Blanco Roller è asciutto Corregge in un attimo ed è subito riscrivibile Blanco Roller Il correttore della nuova generazione René Simonsen Anche lei usa il nuovo ododorante Malizia Freschezza Così delicato Fresco Così naturale Eh sì Perché con Malizia Nasce sempre un'intesa Visto? Scegli la tua freschezza Con Malizia Per foto incredibili usate la formula Kodak Pellicola e carta Giri, piri, giri Girivi in Kodak Kodak? Basta chiederlo Salve, sono Pocket La nuova fantastica etichettatrice elettronica Daimo Con me puoi fare etichette adesive di ogni tipo e colore Da attaccare ovunque Straordinario, vero? Daimo Pocket Non puoi fare a meno di etichettare tutto Chi quella sera ha ceduto alla tentazione di Viennetta? È ancora un mistero Viennetta Con le sue irresistibili, croccanti sfoglie al cacao Il suo delizioso e ricco gelato Una fetta non è mai abbastanza E allora Chi avrebbe preso quell'ultima fetta? In quel momento mi hanno guardata tutti Chissà poi perché Viennetta Una fetta Non è mai abbastanza Allora Babbo Non ci fa stare in pensiero questi due giorni Mi raccomando Qui c'è il numero del telefonino Sì, sì Va, 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 va Per qualsiasi cosa Chiama Va bene, va, va Vi arriverà Avete mai pensato alla serenità che vi dà il telefonino? Oddio Babbo, lo sapevo Babbo Babbo, sei bene? Sì, sì, io sto bene Ma questo disco poppa Come si gira? Nuove tarifiche Informatica 156 Abbiamo preso l'esperto Abbiamo fatto scegliere all'esperto L'esperto dice Mais Bonduelle Perché è unico Inconfondibile Onore all'esperto Mais Bonduelle Il piatto ride Dalla ricerca Collistar Rossetto puro L'unico nella trasparenza del vetro Puro Nel suo color inalterabile E nell'azione anti-invecchiamento Puro Il rossetto Io guardo il risultato Collistar Dalla ricerca Volete la nuova enciclopedia del sesso felice in tre volumi? Un regalo con il nuovo class Il primo mensile dalla parte dell'uomo Mamma mia I cameli sono diventati mucche Me l'avevo detto di non dargli le galatine Ma gli piacciono tanto Galatine sperlari Quando il latte fa la caramella Se tornate i cameli Ve lo do ancora Michetti mulino bianco Due leggere sfoglie di grano Per farli così originali Fragranti e gustosi Michetti mulino bianco Chi mangia sano Trova la natura Su c'è una festa C'è gioventù C'è vù di aia Sì? I virster di pollo e tacchino Saporiti e leggeri Ecco gli altri modi ragazzi Scusi Chi era? Nessuno fiorellino Arturo? Arturo! Se c'è aia C'è gioia Vai tu? Vado, vado Hi, I found him Oh, in my kitchen Entra Hi, I'm Kate I love next door Would you like to join us for lunch? We're going to have A tipico italiano dish Good idea And very good English L'inglese per te Di Agostini In edicola con il primo fascicolo L'audiocassetta La prima parte Dei dizionari tascabile Fondamentale E della grammatica So le mille lire Ma dai Puoi vedere che lo imparo anch'io Forse di lingue di Agostini I più venduti nel mondo Linea seta ultra Linea seta ultra E vai Il caffè sulla pianta Sembra un grappolo d'uva Ma solo i chicchi maturi Diventeranno Caffè Kimbo Dalla terra del caffè Kimbo macinato fresco Buono Aromatico E piacevole nel gusto Saluti amici Se amate la natura Golden Colorado E' il posto per voi Fiume Movimento Sole E quando il caldo avanza Lipton Ice Tea Hi guys Lipton Ice Tea La carica naturale di Tay Lipton E' un gusto Mondiale Lipton Ice Tea Il gusto Fiamma Il gas Lascia il nero di fiamma Sulla piastra Con Smack Gas Poche gocce E una passata Per avere piastre pulite E splendenti Smack Gas Piastre brillanti Senza fatica Smack Più amore per la casa Smack Brillacciaio Pulisci lo sporco Senza fatica Sciacqui E subito Con Smack Brillacciaio Tutto l'acciaio risplende Smack Brillacciaio Acciaio pulito E brillante Come nuovo Ciao Paolo Che cosa stai mangiando? Il mio cioccolato preferito Cioccolato Kinder Ma è per ragazzi Sarà per ragazzi Ma è meglio anche per noi Provalo Buono Kinder Maxi Nato per i ragazzi Ideale per tutti La campana della vecchia torre Era dispersa in mare Mesi e mesi alla ricerca Inutilmente Ma noi volevamo che tornasse a suonare E finalmente Non c'eravamo mai sentiti così uniti Cose uniche, vere Come Amaro Montenegro Amaro Montenegro ha un sapore Un sapore che non ti sbagli Lo riconosci subito Caffè Cosè Prova lo gusto Lo senti con me Caffè Cosè Questo è Cosè Un grande caffè Con un grande aroma E costa pochissimo Comprà Cosè Il caffè latino americano Buono e conveniente Salute professore Senti che sapore Quest'acqua olevita Quelli sono i minerali preziosi Senti quasi Senti la microeffervescenza Brindo alla digestione vittoriosa E' venuta mia socia A colazione professore Ha cucinato lei Mia socia è tedesca Krauti E ho detto tutto Professore Acqua olevita Aiuta a digerire pure i krauti E pure le socere E ho ridetto tutto Cinque minuti all'inizio Un momento Se manca il naso Non c'è il portamento Un momento Che vuoi che sia Una parentesi che vola via Certo c'è pure il momentaccio Che quando arriva E' sempre un impiccio Oppure c'è il momento bello E la fortuna Ti fa da mantello Ma c'è un momento Che è sempre giusto E quando arriva Crema e gusto Teatro esaurito signor Nino E te credo Hanno sentito il profumo Crema e gusto la pazza E per chi ama E il caffè più forte Oggi anche nel tipo gusto forte Mi dica Cos'ha l'altra Che io non ho Lei cosa gli fa da mangiare? La solita minestra Perché? Ecco perché La conosce questa? No è ricca E come? È la fagiolata La nuova zuppa del casale Con sei tipi di fagioli diversi Borlotti Cannellini Mi ha zucchi Deve piacerle molto Così densa e saporita Non ha rivali So dove trovarla Quando vuole Non lei La fagiolata O la solita minestra O zuppa del casale fagiolata Da Finnlus È un nuovo balsamo È in spuma Per districare i capelli In un batter d'occhio Senza risciacquo Nuovo balsamo Spuma Oltra dolce Alle piante Dei laboratori Carnini Ultra veloce Subito districati Ultra pratico Senza risciacquo Ultra ricco E alle piante Un'infinita morbidezza Una straordinaria leggerezza Nuovo Senza risciacquo Balsamo Spuma Oltra dolce Alle piante Garantito Dai laboratori Carnini Lo sapevate che su Marte C'è un vulcano immenso Alto tre volte l'Everest E che nel cosmo Vengono scontri Anche tra galassie Gli scienziati Hanno scoperto Molte cose Sull'universo Per farle scoprire Anche voi Abbiamo preparato L'universo La nuova grande enciclopedia Dell'astronomia Con filmati nasa Unici e straordinari Per scoprire i segreti Del cielo E imparare ad osservarlo L'universo In edicola Il primo fascicolo A sole mille lire Con video Il sole A 4.900 lire E in più Vinci mille telescopi Cono start 600 De Agostini Arioso Morbidoso Morbidoso Vaporoso Favoloso Fabuloso 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 Scusi Lei ha preso Un gratta e vinci Preso adesso In edicola Ma bene Grattiamolo in diretta Ma non lo so Se è il caso Facciamolo per i telespettatori Facciamolo E se vince spesso Certo Quando la fortuna Ti da una mano Fatti dare una mano Dalla fortuna Gratta e vinci Signora Ancora il solito detersivo Non sa cos'è Il vero risparmio Sì che lo so Si sbaglia Il vero risparmio È Nelson Ultra Una bottiglia La forza sgrassante Di quasi tre delle sue E ne basta Una piccola dose Facile da ottenere Con il micro dosatore Così per sgrassare a fondo Una bottiglia di tradizionale Non basta E ne ha bisogno Di quasi tre Mentre di Nelson Ultra Ne usa una sola Signora ancora Eh no Ora so cos'è Il vero risparmio Nuovo Nelson Ultra Lava quasi come tre Ed è il miglior affare Che c'è Lo hacker Un amore irresistibile Il mio cran caramel Me lo preparo io Elac È sempre buono Sempre genuino Sempre unico Solo io lo preparo così Elac Dal 1909 Bontà pura e semplice E il tuo cran caramel È buono come il mio? Vito Ma tu lo sai cosa succede Il 19 giugno? Certo che lo so E tu lo sai Nino Che succede? Ce lo dite quando vi sentite? Senza prete Il testimonia siete voi Noi siamo qui Gentile signora Dal 19 giugno Bisognerà sempre aggiungere Il prefisso Prima del numero di telefono E anche col prefisso Il costo rimane uguale Oh quindi Vito per chiamare Nino Che abita al piano di sotto Dovrà? Usare il cedofolo Palermo 091 Fissato Fisso prefisso Con mia cozza Con un goppo scoglio Con mio solo goppo amare Ragioniere Ma che dice? Un slogan Non fa poetico Un po' Siamo uomini Un testimonio 19 giugno Fisse il prefisso Sempre complicata te eh Dai Deglielo te al mio papo La sera mi ci manda al cinema E perché io? Perché di te si fida Sì Raperai il tuo papo Allora Gino Ci vado il tuo figlio A pigliatele più Sì sì Ma che non ti preoccupare Per soldi poi Ci si vede al bar Ciao eh Buonasera Mario Oh Sei già qui te? Io sarei venuto So già tutto Ho appena parlato Con il tuo papo Ah bene E guardi che dopo il film E gliela riporto subito Subito? E perché? Ti hai almeno una settimana Che ti ci vede ogni sera Un film diverso Una prima visione E poi Oh La fai vedere anche alla bici L'unica cosa Ci devi fare l'abbonamento L'abbonamento? Ah sì E se ci fai l'abbonamento Un la si vede mica Comunque Tendi sto decoder E va tranquillo Allora Che ti ha detto il mio babbo? Che eri complicata L'avevo capito Ma che ti ci volesse anche il decoder? Sempre più cinema Sempre più sport Tele più Sempre più come vuoi tu C'è una novità Brio Bassetti in puro cotone È da oggi ultra pratico Puoi anche non stirarlo Tu lo stiri? Io non lo stiro Io volevo avere un capitale Mentre io volevo una rendita integrativa Anni d'oro capital rendita Ci ha messo d'accordo Così abbiamo comperato Un appartamento al mare E abbiamo una rendita integrativa Che ci permette qualche capriccio Anni d'oro capital rendita Un servizio esclusivo Composto dai certificati Di deposito Imer E da una rendita integrativa Mediolanum E oggi non siamo di peso a nessuno Anni d'oro Mediolanum Per avere una rendita E riavere il capitale Rivolgiti ai consulenti globali Di Programma Italia Un'altra rendita E' una rendita Un'altra rendita Un'altra rendita Un'altra rendita Un'altra rendita Tutta la libertà Questo simbolo all'esterno di un personal computer indica che all'interno troverai la sicurezza di grandi prestazioni nel tempo. I microprocessori Intel 486 e 486DX2, il cuore per i programmi software più avanzati in tutto il mondo. E ora il microprocessore Pentium, la nuova generazione di processori Intel potenti e compatibili. Il microprocessore Pentium, un'altra ottima ragione per esigere Intel Inside. Più lo yogurt magro è denso e più è buono. Lo capisce anche un cucchiaino? Yogurt fattoria scaldasole, di latte dell'agricoltura biologica, di buono in meglio. Naturalmente non è acido, naturalmente è più dolce, naturalmente è più cremoso. Yogurt fattoria scaldasole, di latte dell'agricoltura biologica, di buono in meglio. Fattoria scaldasole, lo yogurt che puoi mangiare con la forchetta. Yogurt fattoria scaldasole, di latte dell'agricoltura biologica, di buono in meglio. Ha inizio la festa del pulito! Finito di stendere? Prendiamo una delle vostre camice. Sembra perfetta, ma la luce del proiettore si vede che è ancora sporca. A volte può andare così. Ma oggi c'è Dixan Megapers. Dixan Megapers, la nuova generazione dei detersivi concentrato in perle. Vogliamo provarlo? Venga signora! Sì, sì, anche lei! Prendiamo la stessa camice e macchiamola di sugo! Esagero? Senza pietà! E laviamola con Dixan Megapers. La polvere e la perla tolgono lo sporco grosso. Poi quando la polvere si ferma, la perla che ha un cuore d'energia continua fino a togliere ogni traccia. Guardate! Niente macchie! E niente alone! Perché Dixan Megapers ha tanta energia in più in ogni perla. E si vede la fine delle macchie! Dixan Megapers, la festa del pulito. Più cucinare diventa semplice, più viene voglia di cucinare. Questa non è una novità. Oggi, cucinare i tuoi primi, secondi e contorni è più facile. Grazie a Rosette Findus, con vegetali selezionati e preparati come vorresti tu. Da sciogliere in pochi minuti. Con Rosette Findus, la buona cucina ti è più vicina. E questa sì che è una novità. Ai funghi, alle melanzane, al soffritto, al pomodoro, ai carciofi. E anche tu sei al posto. Dai, stacchiamo un attimo. Non hai qualcosa di buono? Ci mangiamo una fiesta? Fiesta è così buona che quando la mangi, è proprio una festa! Perché solo fiesta sa darti un gusto così ricco e goloso. E tanta morbidezza. Guarda, che deve essere una fiesta! Fiesta, un gusto che è una festa. Anche su Fiesta trovi i punti di Vinci Campione. Ho portato il caffè. E la pazza a qualità ora, va bene? Eh, va bene sì, dopo un pranzo così. Qualità ora è massimo, no? Ma chi è? Eh, la mia cuoca. Trecento anni? Si riporta bene. Ma so bene pure il caffè. Senta, ma non è che anche con lei basta il pensiero e sparisce. Dipende dal pensiero. Con i suoi sparisce sicuramente. Anche. E se si provasse senza pensarci? Come? No, no, niente. Buongiorno, desidera. Buongiorno, vorrei un po' di formaggio e un etto di parmacotto. Eh, mi dispiace signora, il parmacotto non ce l'ho, però le posso dare... A me non importa. Mi dia delle olive verdi e due etti di parmacotto. Mi scusi, forse non mi sono capito, ho tralasciato il parmacotto, non ce l'ho. Però le posso dare un altro che è buono lo stesso. A me se non ha quelle verdi, mi dia quelle nere. Quelle nere. Però magari me le fa tre etti di parmacotto. C'abbiamo il parmacotto? No, eh no. Ah, ho capito. Eh, ho capito. Mi dia quattro etti di parmacotto e non ne parliamo più. Ma che mi ha mandato questa a me? Boh, se le chiettava a me lì. Sta zitto, che fai? Che t'allarghi? Serve parmacotto? Oh, ma poi devi arrivare prima, la signora mi ha fatto la testa. Pronti con il parmacotto? Dai, lui, valla a pigliare, che fai? Serve altro? No. Chi chiede parmacotto, vuole solo parmacotto. E ti trovo un po' magrolino. Magrolino io? Da quando vivi solo? Che spinaci veneri. Con il formaggio, la mozzarella. E questa casa poi, eh? Tutto da finire. Gli spinaci però te li sei finiti, eh? Grazie a quattro salti in padella findus pronti in soli cinque minuti, la mia vita è proprio cambiata. Uomo, ti sarei mica fidanzato. Mamma invece non cambia mai. Quattro salti in padella findus. Gusto in cinque minuti, per cambiare la vita da così a così. Solo in cucina, eh? Pensate ad un ottimo yogurt, bianco, morbido, voluttuoso. Ed ora, ora pensate al caffè, inebriante, aromatico, fragrante. Pensateci intensamente. Mi sembra di vederli, eh? Ed ora mescolate con cura questi due pensieri, fino ad ottenere una tentazione unica. Alleluia. In più è cremoso, in più è iomo. Che opaca la vita, fortuna che ci sono loro. Oddio, alcune dicono, ah, io ne faccio meno. Illuse. Certo, in giro ce ne sono tanti, ma di un lento. Lui invece, non so, prima mi sentivo spenta da quando c'è lui. La vita è ogni giorno più splendida, vero? Ah, vive la vie, ma che ricerciastro! Vaporini e Vaporiglass sono solo ariete. Comoda la vita. Ma che piacere è il piacere di Dek? Il piacere che dà il piacere di Dek? Ma che piacere è il piacere di Dek? Lavazza Dek, pregiatissimo arabica colombiano, decaffeinato con l'elemento più naturale, l'acqua. Dek, caffeina e meno. Il nome Lavazza in più. Il piacere di Dek. Quest'uomo è un dentista, per cui non possiamo mostrarvi il suo volto in tv. Buongiorno, dottore. Vi siete mai chiesti quale spazzolino usano i dentisti per i propri denti? Oral-V, naturalmente. In Italia, la maggioranza dei dentisti usa oggi Oral-V. Oral-V, lo spazzolino più usato dai dentisti. Mon Cherie, è come la felicità. Dura un attimo, ma è così intenso. Se quando lo mangi, chiudi gli occhi, vedrai il paradiso. Mon Cherie, è un caldo benvenuto. Io ci sento il fuoco dentro. Sono tanti anni che ci gustiamo in Mon Cherie. Ed è sempre come la prima volta. In Mon Cherie ci sono tanti piaceri. Il fresco, il forte, il cioccolato. Mon Cherie, tanti piaceri in uno. La merenda più fresca si trova nel banco frigo. Più fresca e più completa. Fatta con tanto latte. Kinder Fett al Latte. Che fame! Oddio! C'è anche per noi! C'è per tutti! Kinder Fett al Latte. Quella tempio che completa la merenda. Le superfici curve creano riflessi e alterano la realtà delle immagini. Sony ha creato lo schermo ultrapianto. Super Trinitron. Lo schermo più piatto del mondo. Super Trinitron. Sony. Pur di ottenere un pulito profondo, a volte rischiamo di rovinare i tessuti. Ma come facevano una volta? La mare andava in campagna quando il sole tramonterà, tramonterà. Chissà quando uscirà, quando ritornerà. Ho capito. Il segreto era il sapone. E oggi lo trovi in scaglie, dentro Ava. Così pulisce in profondità e... ...rispetta i tessuti. Ava, il sapone di ieri, il pulito di oggi. Papà, guarda cosa ho trovato. Fammi vedere. Eh, vent'anni, quanti ricordi. Ma, guarda com'è qua c'è. Butta la via, va? Falla vedere a tua madre, eh Carlo? È un peccato buttare i ricordi. La possiamo tenere? Fidati di bio presto, perché il bianco torna bianco e il colore resta colore. Prendi. Papà, guarda. Vai. Wow. Bio presto. Bianco bianco, colore colore. Come si vede che è un Big Mac? Gusto unico, irresistibile. Dal gusto che si sveglia. È così grande come la verità. Dalla voglia che ti prende. Son dieci le strati. Dalla smania di morderlo. E dall'espressione che fai. Sto unico, irresistibile. Un Big Mac è il meglio che ci sia. Succede solo un Domecon, non solo un Domecon. Coppa bianca. Oh, scusi, ha del ghiaccio. Sì, certo. Dessert coppa bianca. Può iniziare dalla panna montata. Divino. Ecco il ghiaccio. E i due bicchieri? Oh, puoi tuffarti nella crema di cioccolato. Scusita. Dessert coppa bianca. Il piacere che ti manca. Ritornano in edicola i maestri del colore con Vittorio Sgarbi. Ogni 15 giorni una videocassetta con le opere più significative di ogni artista analizzate da Vittorio Sgarbi e una monografia con splendide tavole a colori. Con la prima uscita la videocassetta e la monografia su Van Gogh. Fabri Editori. La bocca è la casa dei denti e la salute dei denti dipende anche dall'igiene della bocca. Menta Dent Coluttorio dona freschezza, aiuta a prevenire la placca e completa l'igiene. Menta Dent. Prevenzione dentale quotidiana. Freddo, goloso e tu a mordi su. Winner! Ma che emozione di gelato. Ah ah ah! È muo e poi è caldo cioccolato. Winner! Che scossa il tuo palato matto di gelato. Tutto nuovo cioccolato e morbido gelato. Nuovo winner! Accendi un brivido in me. Winner! Nuovo! E allora com'ha andato? Mi ha preparato una cenetta. Insalata di semi di lino. Zuppa di germi di grano. E spezzatino. Ah, però? Di soia. Che cosa vuoi di più della vita? Un lucano! Amaro Lucano. Voglio il meglio. Da oggi con Coca-Cola. Apri! E vinci subito mille scooter amico Aprilia. Apri! E vinci subito mille mountain bike Doniselli. Apri! E vinci subito mille Hi-Fi System Sony. Guarda sotto i tappi e sotto le linguette Coca-Cola. Sono in palio anche centomila telespugna e un milione di bottiglie e lattine. Concorso vinci e stravinci Coca-Cola. Più di un milione di prezzi. E strazioni unica. Immagina. Un mondo dove dal frigorifero nascono cascate di ghiaccio. Dove la lavastoviglie in silenzio ti dà splendore. Dove in un soffio si accende la bellezza. E i forni racchiudono le microonde. È il mondo di Whirlpool. Elettrodomestici Whirlpool. Più qualità ha la tua vita. Zed Caffè, coloproprio, sei out. 1-4-4-1-4-1-4-1-4. È facile. 1-4-4-1-4-1-4-1-4. Osservate questo ingrandimento. È il capello di un trentenne, ma fragile e indebolito. Troppi radicali liberi, insidiosi nemici del capello. Con Bio-Scaline, meno radicali liberi, più vita ai capelli. Semplice, come bere un bicchier d'acqua. Piccoli e grandi dolcetti, timide carezza e poi l'allegria. Quando mi sorridi, quando mi sorridi. Tanto gusto in tutti i gusti. Vietorelle, caramelle senza zucchero. Il sorriso e tutto il gusto che vuoi. La senti al primo morso, la senti che è freschezza. È Center Fresh, una cascata di freschezza. Troverai. Center Fresh, una cascata di freschezza. Center Fresh. Il chewing gum è ripieno di freschezza, protetto da un delicato confetto. Chewing gum Center Fresh, una cascata di freschezza. Non ti aiutano un granché a scegliere il tuo computer, vero? I processori hanno velocità sempre diverse. Gli hard disk non hanno mai la stessa capacità. Eppure tutti costano più o meno la stessa cifra. Com'è possibile? Ma allora, se non c'è una grande differenza di prezzo tra un vero PCBM e gli altri, perché non comprare un vero PCBM? Il parere di un uomo che conta. Uno, è nata a pizza forno Findus. Due, ne paghi. Tre, ne sforni. Quattro formaggi e margherita. Cinque minuti per cuocerla. Pizza forno, è solo Findus. Sei, trovo un uomo. Oggi i prodotti Findus che ami di più sono cresciuti. Cresciuti tanto che non si può chiudere la porta a un'occasione così. Minestrone tradizione e piselli novelli nel nuovo formato scorta da un chilo. Oggi costano come 750 grammi. Prova la qualità. Senti la differenza. È nata la squadra di calcio più bella del mondo. La nazionale modelli Compagnia delle Indie. Sono belli, forti, invincibili. Usano bagni schiumi profumi Compagnia delle Indie. Sandalo, paciuli, vetivè, incenso, ilang-ilang, vaniglia, colonia, tè delle Indie. Un corpo a corpo con le fragranze più seducenti. Una linea di otto bagni schiuma che gli uomini scelgono. E le donne amano. Compagnia delle Indie. I galletti. Gli ingredienti più semplici. La sapienza mulino bianco. Poi, un tocco di dolce fantasia per un gusto delicato che non stanca mai. E un galletto tira l'altro. Galletti mulino bianco. Chi mangia sano, trova la natura. Quanti momenti felici ci sono nella tua vita. Per festeggiarli, oggi Coccolino Amorbidente e Coccolino Detersivo ti regalano 500 milioni. Stacca i due tagliandi di controllo, spedicili subito e... Buona fortuna. E in più, tieni sempre in casa le due confezioni. Oggi Coccolino può venire a casa tua e regalarti una bellissima spilla d'oro. Coccolino Amorbidente e Coccolino Detersivo premiano i tuoi momenti felici. Se pensate che le enciclopedie possano causare sonnolenza, da oggi c'è l'Enciclopedia Fabri. Completa, aggiornatissima in 25 volumi facili da consultare. Il primo, con in più l'euro convertitore, è in edicola a sole 8.900 lire. Francesca Carogni, informata in sogno. Adulli Tobia, telepatia, castelli di letta. Sì, informazione di letta! La privatizzazione a Enel inizia il 25 ottobre. Prima dell'adesione, leggere attentamente il prospetto informativo. Voi che fate? Straniera? Sì, di Marsiglia. Ma Marsiglia, Marsiglia? Originale. Come sole Marsiglia? Che sole! È l'unico Marsiglia con l'esperienza del grande marchio sole. Il sole me lo porta a Marsiglia. Lasciamo più. Ora visualizza forma che a voi attira. Che fa sentire le ceri. Ora scopritene essenza. Ora mani dietro la nuca. Occhi chiusi. Ora pensa a un altro uguale. Mmm, duplo. Il gusto prende forma. E con duplo trovi il coupon per ritirare in edicola le nuove figurine panini dei calciatori. Ma chi vi dà un concorso da 2 miliardi? Chi vi dà 500 milioni in gettoni d'oro? 19 auto? 170 vacanze in Kenya? 370 videoregistratori. Ve lo dico io. Sao caffè. Sao, sapore e simpatia. È gorgonzola. Fatti pizzicare dalla voglia. Fatti pizzicare dalla voglia. Fatti pizzicare, fatti pizzicare, fatti pizzicare dalla voglia. Ma fatti pizzicare su dai. Fatti pizzicare. E fatti pizzicare, fatti pizzicare, fatti pizzicare dalla voglia. Dalla voglia. Fatti pizzicare dalla voglia. Formaggio corgonzola, quel pizzico di dolce che ti scioglie. Lasci di qua! Qual è lei, famoso frollino, tutto sondo a bui? Mambo bebe! È friabile, ha un gusto unico! Albo bebe! Il tempo è scavuto! Gran Turchese, ce n'è uno, come lui, non c'è nessuno. E vai. Lassù nella valle, le vacche si confidano. Ma il tuo contatino, che fidanzato ti dà? Un toro? Certo, ma di quelli speciali. Sai, è italiano, focoso e anche tanto romantico. Beh, alla fine col tuo latte ci faranno sempre del caprino, no? Caprino, certo, ma caprino e caprileggero Mauri. Capri e caprileggero Mauri, il resto sono caprini. Mauri! Baby Bell, il bello è che... Baby Bell, lo puoi portare con te, tutto il gusto c'è, del buon formaggio e mini Baby Bell. Mini Baby Bell, il mini formaggio che esce dal solito. Ba, 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 baby bell. E l'Erdammer com'è? È una dolcezza. Me lo fa soggiare? Sono un pezzettino, eh? Mmm! 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 E l'Erdammer dolce, unico, irresistibile, lo sapevo. Raider! L'ora di mangiare non tiene mai, un taglio il tuo cuore con lui darai. Raider, tu hai biscotti o cake per la fame che hai. Dillo con due dito e vai, Raider! Caramello, cioccolato e un uomo snack. Il tuo languolo e taglierà. Raider, un taglio ci dà. Ogni mattina scopri la naturale bontà dei chicchi di mais con le nuove pannocchie. Un'esclusiva ricetta a murino bianco. Per cominciare la giornata con più gusto e vitalità. Pannocchie a murino bianco. Guarda che magia e frutella fa. Magiche magie di frutta le pente farà. Con un tocco di polli a cambiare la realtà. Frutella, questa è la magia più bella. Frutella, la magia più golosa che ci sia. Bello, una nuova forma d'arte. Ma cos'è? Che l'armistica. E questo è il mio capolavoro. A me sembra un cioccolatino. Ma che dici? Hai notato di più? È un'intenditrice, un loagino. Ma si sa non tutti possono capire. Si capisce, si capisce. Cioccolato, crema, nocciole. La sua è una ricerca dell'estate. Legna della critica? Quale critica? La sua opera è perfetta. Loachini, molto più di un cioccolatino. E a quando la sua prossima mostra? Ma che ci fai, Fritti Friol? Il mio fritto, croccante e dorato, fa sempre colpo. Ma quello che conquista è che è asciutto. Friol, frigge croccante e asciutto. Mi piaci. Ti voglio. Sembra incredibile, ma sono cotta di te. Con Dado Star, la frittata e un'estasi di sapore. Dado Star, mi piaci. Il latte? Mi fa tanto bene, ma prima purtroppo non lo digerivo. Per fortuna oggi c'è Zimil. Zimil, il latte per chi non digerisce il latte. Da Parmalat. A me piace il tonno. E la crema di tonno Asdomar è una delizia. E poi la spalmi e te la mangi. Crema di tonno Asdomar, una delizia. Y10LX, a ciascuno la sua. Sapete perché Maria Teresa Ruta ha scelto la Y10 Fire LX? Perché ha un'eleganza così naturale. Y10, piace alla gente che piace. Mio marito è adorabile, però è sempre di fritta. Mercurio! Per fortuna c'è condiriso Sasso, l'ideale per un primo leggero e gustoso. Cosa posso dire? Grazie Sasso. La leggerizza prende gusto. Müller presenta... Ciao, crema di yogurt, sono rapper come stai. Non voglio più sognare che un mattino te ne vai. Quando sono insieme a te, non ci sono per nessuno. Perché tu, soltanto tu, sei la crema 01. Amo l'attimo leggero di vederti ogni mattino. T'accarezzo dolcemente con il nostro cucchiaino. Sono mai vicino con la bocca e ogni volta quel tremore. Ma che bella sensazione far l'amore col sapore. Con te sogno una realtà, tutta nuova da gustare. Più leggera di una fata, tu sei bella da mangiare. Müller, fate l'amore con il sapore. Dura, quadrata, charming. Lungo sapore, lungo piacere. Charming charms. Peccato masticarla. E tu chi sei? Biopresto Micro, vecchio mio. La nuova dimensione del bucato. Sono molto più piccolo di te, ma faccio il tuo stesso numero di lavaggi. Che cosa? Quanti? Quanti ne fai tu? Non ci credo. Ma è vero. La mia polvere è così ricca che per un bucato ne basta la metà. Belle parole, ma in pratica... Guarda, la mia è micropolvere. Agisce subito ed elimina persino le macchie più nascoste. Ma, ma guarda. Mmm, che bianco. E coi colori? Perfetto. Beh, largo ai giovani. Nuovo Biopresto Micro. Una generazione avanti. Mirto Zedda Piras. Il suo profumo non ha più confini. Non mi hanno punto. Non ti hanno punto. Chi non dà punto? Ecco a voi, off. Repellente anti-zanzare. Ma non sono unto. No, non sei unto. Perché non è unto? Off. Allontana le zanzare e non unge. Se non sono unto, perché non mi hanno punto? Perché non sei unto? Chi non la punto? Off. Lascia la pelle delicatamente perfumata. Sicuro ne ha punto, ne ha unto? Siete stati mangiati vivi dalle zanzare? No. Off. Ne punti, ne unti. In lozione. Spray e oggi anche in crema. Off. Ne punti, ne unti. Leggerà attentamente quanto riportato in etichetta. Vero pulito col solito panno? Cambia a punto di vista. Con la fibra attiva di Lena. Le sue microscopiche fibre catturano anche lo sporco più profondo. E col sistema fibra attiva lava tutto, arrivi ovunque, con meno fatica. Questo è vero pulito. Vileda Fibra Attiva. Una vera rivoluzione. E oggi, Vileda Fibra Attiva è anche spolvera tutto. Per raccogliere e trattenere la polvere facilmente, perfettamente. Vibra Attiva Spolvera Tutto. Da Vileda. La cucina è arrivata. La lavatrice c'è e per la luce abbiamo già provveduto. Baccio! 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 1-8-7 Non siamo andati alla SIP per il telefono. Quando torniamo dal viaggio abbiamo il telefono. Ho chiesto anche due telefoni rossi. Per avere il telefono e tutti i prodotti SIP, non correre. Telefona al 187.